buon dia signor giuli come sta ma parisci bei splendidamente e al signor claudi come sta molto bene lo sta marco perché no tutto mio nonno pare stia male quale di voi sono del bocca 80.000 euro ciao papà come l'hai trovato ma che cosa hai una bizzarra malattia da quanto tempo sta male quasi attuale oddio ti sei venduto tutto io sono scappata da questa casa considerandolo un pericolo perché non glielo dici che motivo non è solo il poker voglio solo che lui stia bene valeria che non gli manchi nulla io voglio riaprire l'albergo vi conoscete è un amico di papà il miscazziere bisogna farlo giocare una partita davvero fate gli stessi sogni quasi sempre non posso più ridere amore mio continuerò ad amarti anche da lontano perché mi piace l'amore e l'amore discreto riposa l'audio riposa